Ho dimenticato di aggiungere, eccoci qua, aspettate, no prego figurati, aspettate, 1, 2, 3 prova, sì perfetto, il microfono funziona. Allora ci eravamo fermati qua, giusto? Eravamo arrivati fin qui, ovvero ci stavamo occupando dell'asse dorso-ventrale di specificazione della drosofila, quindi tornando un minimo indietro, siamo passati attraverso un sacco di pezzi, di passaggi, però il concetto, il risultato finale, là dove dobbiamo capire come si arriva, è questa cosa qua. Questa è la fate map delle cellule lungo l'asse dorso-ventrale, quindi gruppi separati in modo netto di cellule, quindi qui il mesoderma e poi una separazione netta, per cui ci sarà l'ultima cellula che diventa mesoderma e una prima cellula che diventa neorectoderma. Lei è muscolo, lui è nervosa e, no di solito il contrario, lui è muscolo, lei è nervosa, comunque, e però i due hanno due destini separati e c'è una linea netta che le separa, d'accordo, di destini cellulari. E altrettanto linee nette di separazione vediamo lungo questo asse dorso-ventrale, simmetrico dai due lati. Quindi abbiamo questo citoplasma, scusate, questo blastoderma sinciziale, 6.000 nuclei, che cominciamo a dividere lungo l'asse dorso-ventrale, a blocchi. In realtà vi dico, io adesso vi faccio vedere questa divisione a blocchi, nella realtà la divisione è al singolo colonna di nuclei, ogni riga ha un destino diverso. E stiamo cercando di capire come si arriva a specificare in modo così preciso questa cosa. E abbiamo scoperto che c'è un gradiente là fuori, nello spazio perivitellino, tra le cellule follicolari e queste cellule del blastoderma sinciziale, c'è un gradiente di una molecola che si chiama Spatzel. Spatzel segnala attraverso Toll e il suo correlato intracellulare, è quello di una molecola, di un fattore di trascrizione, d'accordo? Quindi qualcuno che controlla i programmi genetici e che è espresso però, vedete qua, di nuovo in modo abbastanza analogico, diremmo noi, cioè in tanti gradi, varia poco poco, varia piano piano, no? In maniera impercettibile. Ecco, adesso noi dobbiamo chiederci, e questo faremo oggi, come si passa da questa gradazione, no? Sfumata e continua di livelli di questo fattore di trascrizione intranucleare, invece ha delle scelte, ha una digitalizzazione, ha delle scelte nette e differenti dei destini cellulari. In qualche modo però abbiamo già visto il riccio di mare, quindi sappiamo cosa stiamo cercando, stiamo cercando dei master regolatori jeans, qualcosa tipo Pimaruno, vi ricordate? Il bottone, che lo schiacci e si prende quel destino. E poi chiaramente ci saranno più bottoni a seconda dei destini, d'accordo? Più master regolatori jeans, questo, ecco. Noi vogliamo accendere dei bottoni diversi in risposta a questo gradiente, d'accordo? Di concentrazione. È un modello molto semplicistico, magari potrebbe essere che questi bottoni vivano anche indipendentemente, no? A quel livello accendo questo, a quell'altro livello accendo quell'altro, quell'altro e poi vanno. Chi lo sa? Come funzionerà? Allora però, prima di entrare nei dettagli meccanicistici di come questa cosa potrebbe succedere, secondo me avete già le basi di melodia molecolare per capire questa storia. E quindi io vorrei arrivarci invece proprio buttandovi ci dentro, così come se fossimo degli scienziati che ci stanno lavorando, ok? In modo da avere anche un po' di consapevolezza in più su quello che è il livello di complessità di questa faccenda. Perché lo schema del libro, vedete, è una minchiata, lo studiate in 5 minuti. Ma noi siamo biologi, vogliamo fare gli scienziati, quindi a noi serve qualcosa in più, serve avere un'idea di quel che c'è oltre quello schema del libro, d'accordo? E quindi voglio portarvi, se mi permettete, insieme a me, in questo viaggio invece in un sacco di cose che non si capiscono, domande, problemi, dubbi, ok? Dubbi ben strutturati, non vi preoccupate, quelle cose che fanno paura, no? Per andare all'esame, no? Io non voglio dei dubbi, io bisogno di certezze da ripetere all'esame. Invece no, va bene, quello all'esame le troveremo le certezze da ripetere, però il nostro mestiere di scienziati invece è quello di organizzare dei dubbi e delle aree grigie. Ma detto ciò, allora qui voglio farvi vedere appunto, quindi cerchiamo di seguire, quindi l'idea è che dorsal, il livello di concentrazione di dorsal, in qualche modo attiverà dei programmi genetici diversi a seconda del suo livello di concentrazione, dorsal nucleare, d'accordo? Fattore di trascrizione che a seconda della sua concentrazione attiverà diversi programmi genetici. Come si fa però? Come si misura sta concentrazione? Boh, vediamo. Allora, per vedere intanto come si comporta questo dorsal, vi faccio vedere qui light sheet microscopy, quindi vi ricordate, è un piano di laser che passa e facciamo le foto di questa fluorescenza che si accende. La fluorescenza che vedrete qui è la fluorescenza di dorsal, quindi proprio questa molecola è lei e vediamo dove va dorsal e riusciamo a vedere dove va dorsal perché gli abbiamo legato una GFP, quindi c'è una proteina reporter, reporter GFP che è una proteina di fusione, quindi dorsal GFP, dovunque va GFP noi lo scopriamo, ok? Basta illuminarlo con la luce giusta e lei ci risponde. Allora ve lo faccio vedere una volta così, senza commento, poi ci ragioniamo un secondo. Quindi giù le penne, mani sul banco e occhio qua su, d'accordo? Guardate qui. 3, 2, 1, cominciamo al decimo ciclo. Via. Gastrulazione, gastrulazione. Finisce con la gastrulazione, d'accordo? Allora, rivediamo un po', non so cosa avete notato, però ci sono un sacco di cose da notare volendo qua, no? Allora, anzitutto cominciamo da questo nono ciclo. Al nono ciclo qui, boh, non si capiscono neanche bene le mitosi, vero? Questi pulsano, insomma, probabilmente qui c'è già il signaling, ci sono dei nuclei, non li vediamo perché è un canale solo. Qui c'è già il signaling di spazzle, qualche molecola di, sta salendo forse, chi lo sa, qualche molecola di dorsa riesce ad arrivare al nucleo, ma così, in modo un po' incostante. Decimo ciclo metti. Poi scompaiono e ricompaiono, già un po' meglio. Ricompaiono di nuovo, già un po' più stabili e poi riscompaiono, eccoci. Attenzione, fermiamoci qua, tra il tredicesimo e il quattordicesimo ciclo. Questo è il tredicesimo ciclo, ci siete? Tredicesimo ciclo, scompaiono e ricompaiono con gli amici. Eh? Dove sono andati? Sono andati a chiamare qualcuno? Ormai lo sappiamo, giusto? Questo sì che lo sappiamo già. Perché scompaiono? Vedo l'affolescenza, improvvisamente non la vedo più e poi la rivedo. Gioco di magia, siamo un po', non ci sono più e siamo di più, sono le mitosi, d'accordo? E alle mitosi cosa fanno i fattori di castituzione? Fuori dai coglioni, ok? Cioè, mitosi compatto tutto, d'accordo? E un albero che si chiude su se stesso e tutti i passerotti che c'erano appollaiati sopra se ne devono andare. Ci siamo? Ok. Quindi la cromatina quando si compatta c'è spazio solo più per cromatina e istoni, basta. Gli altri fuori. Cioè, non sanno proprio più dove legarsi, d'accordo? Ed ecco che quindi, perché pulsa non l'abbiamo capito, però vorrei farvi notare anche, questo l'abbiamo già visto con la beta catenina, se volete, questo è un buon remind, lo vedremo, e lo vedremo ancora in realtà, è questa cosa, di questi fattori di castituzione. Quindi, nel tredicesimo ciclo inizia ad andare su questa cosa, poi dopo si perde e al quattordicesimo viene su e a questo punto si stabilizza, lo vedete? Si stabilizza al quattordicesimo ciclo e questo se volete ci potrebbe anche stare, no? Perché è al quattordicesimo ciclo che noi dovremmo dividere le cellule. Tu di qua, tu di là. Nei cicli precedenti, ma chi lo sa, cioè magari, sarebbe proprio sbagliato fare delle scelte troppo nette prima, non è il momento, perché poi magari tu fai una divisione e le figlie, chi lo sa, magari una finisce di qua del confine e l'altra di là, d'accordo? Invece noi le scelte le facciamo all'ultimo, ok? È come una festa, quando siamo tutti in posizione, quello è il momento. È chiaro che dorsal però, vedete, che comincia già a salire un po' prima. Tredicesimo ciclo c'è un po' di tempo per magari iniziare qualcosa e poi al quattordicesimo ciclo questa cosa si fissa. Ottimo! Quindi eccoci qua, questo è il momento, no? Settle down, if you want, you can gastrulade. Mentre prima era there's no time to take a faith. Aspettiamo. E invece al quattordicesimo ciclo, settle down, è il momento. L'altra cosa che vi faccio notare, ok, è che, quindi ecco qui anche questo quattordicesimo ciclo che dura di più, l'abbiamo già visto, non so se vi ricordate, il quattordicesimo ciclo è più lungo. Perché? È perché è lì che si fanno le scelte. L'abbiamo visto all'inizio, no? Che aumentava. E in effetti qui lo vedi, il tredicesimo ciclo dura un po', il quattordicesimo ciclo dura seccamente di più. Ed ecco che in questo quattordicesimo ciclo, in effetti, vediamo che dorsal, eccolo qui che torna, quindi tredicesimo ciclo, no, forse qui siamo già nel quattordicesimo, scusate, eccolo qui, sì. Quindi scusate, questo è il tredicesimo, vai giù, eccolo qui. E qui siamo al quattordicesimo ciclo. E qui però vedete che anche aumenta, aumenta progressivamente finché arriviamo alla gasolazione. In questi 50 minuti, che adesso ho fatto andare velocemente, però guardate come sale il livello di dorsal. E tu dici, ma scusa un attimo, però così è un casino. Se io devo fare la corrispondenza, quella concentrazione di dorsal, quel programma genetico, e questo non sta fermo un attimo e comincia prima e poi dopo si muove di nuovo, poi sale, 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 sale e cambia continuamente. Come si fa che cambia continuamente del tempo? Ci siete? In realtà c'è poi un momento, esatto, in cui ci sarà la fine dei giochi. Al quattordicesimo ciclo i giochi sono finiti, sono fatti e si comincerà questa gasolation. Però è chiaro che, ecco, non è così fisso come lo immaginavamo. I suoi livelli cambiano un casino. Dal punto di vista spaziale, invece, beh, forse quello sembra un po' più fisso. Siete d'accordo? Cioè pulsa un po', però dal punto di vista spaziale, qui non lo vediamo bene, perché il nostro reporter GFP ha i suoi limiti. Quindi probabilmente arriva, però in realtà si vede che questi sono più neri e questi sono un po' meno neri, però diciamo, qui sembrano uguali al fondo. Ok. E a questo punto, a valle di questo, poi è finché c'è la gasolazione. Allora, a valle di questo dorsal, quindi che cosa deve succedere? Dobbiamo accendere dei geni target. E questi geni target, qui per esempio ve ne faccio vedere uno, che conosciamo bene, twist. Twist, l'abbiamo visto nel riccio di mare, non so se vi ricordate, tipico delle primary mesenchyme cells, mesoderma. E guarda un po', sa, pure qui, mesoderma. Anche lui, adesso lo vedremo meglio dopo, è espresso nel mesoderma. Allora, guardate twist come fa. Quindi qui vedete il livello di dorsal, questa cosa seghettata, che in effetti sembra anche la pinna dorsale di uno squalo. Quello è dorsal. Ci siete? E vedete come il suo livello in effetti aumenta progressivamente, no? Aumenta piano piano, anche perché effettivamente, se vi ricordate, dorsal ha qualcuno che lo tiene nel citoplasma, ha dei rompicoglioni che lo infermano. No, aspetti un attimo, che volevo chiederle una cosa. Poi per carità, c'è una via di segnalazione intracellulare, che lo, uffa, come si dice, che lo spiazza, no? Che provoca la dissociazione, però chiaramente più dorsal c'è nel citoplasma, più cactus avrà occasione di rompere i coglioni. E quindi dorsal ci mette un attimo a smarcarsi e ad arrivare nel nucleo. Anche questo lo dobbiamo considerare, no? Ci vuole un po' di tempo a rientrare. Ecco che comunque, qui vedete che, qui probabilmente il signaling là fuori, il spazzo sta montando, perché c'è quella via di segnalazione, se vi ricordate, con le proteasi che continuano a proteolizzare, quindi c'è questo segnale che monta, e lo vediamo qua, che monta in effetti. In più è anche il tempo un po', no? Perché qui dura tutto troppo poco. Ci vuole un po' di tempo per poterlo portare a un buon livello. Comunque, ecco che, al tredicesimo ciclo, vediamo comparire i primi trascritti. Questo è il twist, questo è il numero di trascritti. I primi trascritti di twist, al quattordicesimo però, boh, chi lo sa se perché era tutto pronto, boom! Invece parte su a manetta. Cioè a manetta, parte su con la sua, cioè ci mette comunque anche lui un po' ad arrivare su. E appunto, quindi da qualche parte, in risposta a questo dorsal, le cellule inizieranno ad accendere dei geni, e li inizieranno ad accendere in modo differenziale e a fare delle scelte. Allora, io adesso vi farò vedere un po' qualcuno di questi geni, però, prima di... Scusate, no, eccolo qua. Twist, vi faccio intanto vedere twist. Questa è la twist, quel gene che vi facevo vedere, no? Quindi, dorsal, là dove dorsal è molto forte, qua in basso, potete contarli, sono sempre lo stesso numero. Questo sarà il futuro mesoderma, però, scusate, lo vedete? Questa cellula lo esprime, questa di fianco no. Questo è quel confine netto di cui stiamo parlando, ok? C'è un livello di dorsal che ha acceso, twist, e poco meno, invece, no. Ok? Tutto nulla la risposta. Come giustamente sono tutto nulla i tipi cellulari, d'accordo? O se è mesoderma o se è neurone. Non c'è l'ibrido. Questo ricordiamocelo sempre. Quindi noi andiamo verso qualcosa che deve essere univoco. Ecco, però, intanto scusate, secondo voi questa che tecnica è? Cosa stiamo vedendo? L'RNA o la proteina? Twist, forse non lo sapete, ve lo dico io, è un fattore di trascrizione. È un fattore di trascrizione. Guardate quelle cellule, cosa si vede da qua? Sì, dai. Le riconoscete le cellule? C'è il contrasto di fase che ci fa vedere un po' i bordi e poi la parte marrone, quello e qualunque cosa sia stata colorata. L'RNA o la proteina? Che ne dite? Doveste scommettere, avrei dovuto scrivervelo, eh? È colpa mia. Sono stato cattivo e brutto che non ve l'ho scritto. Ma doveste indovinare, tirare a indovinare. RNA. Perché RNA? E dove ti sembra quella marcatura? No, ah ok, allora vedi che non ci capiamo su che cos'è una cellula. La cellula, questo è un epitelio, eh? Questo è un epitelio. Quindi le cellule sono questi rettangolini che ci sono qui. Ci siete? E questa marcatura invece è quella nucleare. Questi sono i nuclei, ok? Quindi questi che state vedendo sono i nuclei. Infatti questa è la proteina. Questa è un'immunistochimica, avrei dovuto scriverlo qui sotto. Quindi qui vedete già la proteina fatta e finita e questa è la fine del quattordicesimo ciclo e questo è l'inizio del gastrulation, gastrulation, start of gastrulation. C'è scritto qua, vedete? E poi questa cosa si, esatto, formerà questo, prima questo tubo, poi le cellule se ne vanno un po' per i fatti loro. Cioè è sempre mesenchimal, epitelio-to-mesenchimal transition c'è. A un certo punto queste cellule si disgregano, però iniziano con questa invaginazione. Ecco che però, ta-da, ok, ci siamo? Quindi questo è il programma, e di fianco ci sarà una cellula che invece poi delamina anche lei per dare origine a dei neuroni. Allora, il punto è che c'è un livello di dorsal che ha permesso a queste cellule di decidere accendo twist, ok? Però questo livello di dorsal cambiava, proviamo a vederlo. Io vi ho fatto vedere dorsal qui, poi vi faccio vedere tutto lo schema e ci ragioniamo, però qui abbiamo visto come va dorsal, adesso vi faccio vedere come variano invece, qual è la risposta di un gene a valle. Scusate, twist e snail io li uso come se fossero, sono due geni diversi, però si somigliano molto e non sempre riesco a trovarle sempre della stessa coppia. Comunque prima avete visto twist, adesso vi faccio vedere snail. Allora, quello che voglio farvi vedere adesso però, è sempre molto tecnico se volete, scientifico, però la possibilità di entrare, no? Con i microscopi, con qualche trucco a vedere quel mondo molecolare che ci si cela perché è troppo piccolo, quindi dobbiamo inventarci dei trucchi. Allora, quello che avete visto prima, avete visto dorsal come si muoveva. Chiaramente dorsal una volta arrivato ai nuclei, troverà delle sequenze di consenso, giusto? Ci si lega e da origine e da inizio ad una trascrizione. E io vorrei vedere quel momento, io vorrei vedere dorsal sui diversi geni, posso fare un chipset, però lo faccio in quel momento, ok? Quindi io distruggo la larva in quel momento, poi lo devo fare dieci minuti dopo, poi lo devo fare dieci minuti dopo, sono larve diverse, non vedo la singola cellula, è un casino. Io invece vorrei vedere, essere lì a vedere la cellula che sta decidendo, no? Che interpreta il gradiente di dorsal. E' ora di accendere? Accendo snail? Accendo qualcos'altro? Cosa accendi? Ok? Allora questa cosa si può fare di vedere, cioè come si deve fare? Io potrei farlo cercando di vedere l'mRNA che nasce, no? Perché dorsal si lega alla sua sequenza consenso, richiama l'mRNA polimerasi e dice mi trascrivi questo per favore, volentieri. E quindi l'mRNA polimerasi parte sul suo gene, corre, corre, corre l'mRNA polimerasi e come un fumo, d'accordo, gli si esce fuori l'mRNA, siete d'accordo? Allora se io riuscissi a vedere questo'mRNA che sta uscendo, eh? Dall'mRNA polimerasi, che corre, 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 corre. Come potrei fare? Questa cosa non è, insomma, l'idea c'è stata, no? L'idea di come fare questa cosa, di vedere un'mRNA che nasce, è stata questa qui. Allora, innanzitutto chiaramente io voglio sapere, per esempio, dove sarebbe espresso snail e questo abbiamo, o non so se l'ho già detto, però possiamo immaginare come si fa. Cioè dobbiamo prendere le sequenze regolative, no? Tutto quello che c'è a monte del gene snail, dove c'è scritto come e dove e quando accendere snail. Non devo per forza saperlo leggere, d'accordo? Però io so che quel pezzo di DNA regola snail, quindi lo acchiappo e lo metto nelle cellule, fai tu, che io non lo so leggere, vedi un po' tu cosa devi trovare, ok? Quindi tagliamo quel pezzo di DNA, che serve a dire accendo, non accendo, interpretare quel pezzo lì, quel enhancer 1, enhancer 2, interpretano dorsal. Ecco, a valle di questo enhancer però, posso mettere un'RNA, cosa viene messo? Viene messo un'RNA di un virus. Ecco il trucco, un virus che normalmente viene impacchettato in un capside. Quindi esiste una proteina che naturalmente, senza che la dobbiamo disegnare in qualche modo strano, ha un'affinità per questo RNA. Quindi l'RNA esce dalla locomotiva, scusate, dall'RNA polimerasio, esce lì su, prende subito la sua conformazione, vedete questo herpin, ms2 herpin, questo è l'RNA, quindi il reporter è solo tanti repeat 24 di questo ms2 herpin, e quindi a questo punto se io ho la proteina del capside legata alla GFP, quindi io ho la proteina del capside e vedo dove va questa proteina del capside, ma lei va dove c'è il suo RNA, il suo RNA preferito, perché si associano. E quindi ecco che, vedete questi puntini, allora in rosso qui vedete il nucleo, con un istone, H2B, e questi puntini che state vedendo, quello è il punto in cui si è andato a infilare questo transgene, ok? Non è snail, non è il gene snail. Qui abbiamo preso questo costrutto, l'abbiamo sbattuto da qualche parte, si è infilato nella drosofila, è boh. Ecco che però, quindi, però quello è il punto del DNA in cui c'è quel costrutto, e lì ci sta l'RNA polimerasi, e quel puntino che state vedendo, sono tutte queste RNA polimerasi in fila, e il loro fumo, ecco, crea una macchia abbastanza densa da poterla farla risaltare al microscopio. Ci siete? No? Questo puntino verde lo vedete? Quello è l'RNA che sta uscendo, ok? E questo reporter che vedi su, questo costrutto, questo reporter, questo RNA viene, quando viene espresso, lega questa proteina, e io lo vedo al microscopio con la fluorescenza, ok? È chiaro? Non è semplicissimo, mi rendo conto, però questo vuol dire, e in questo caso, siccome il costrutto viene prodotto in funzione dell'espressione di snail, permettetemi di trovare la cosa giusta, eccoci qua, siccome lui viene espresso in funzione di, scusate, le sequenze regolative che regolano questo costrutto sono quelle di snail, no? Snail ha degli enhancer, delle sequenze regolative che gli dicono quando deve essere espresso. Dorsal si legherà da qualche parte lì e farà sì che questo snail viene espresso in quel punto. Ci siete? Vedete, in effetti qui è quel puntino verde che state vedendo, quello è il mio RNA reporter. E l'RNA reporter però, poi chiaramente lui si diffonderà nel citoplasma e si diffonde, cioè andrà a finire da tutte le parti e si diluisce, non lo vedo più. Però nel momento in cui lo sto trascrivendo, quindi che ho il pezzo di DNA e ci sono tutte queste RNA polimerasi, una in fila all'altra, no? Come le code di una macchina, come una tangenziale, sono tutte le RNA polimerasi, una in fila all'altra e ognuna sta tirando fuori questo RNA? Allora lì si vanno a concentrare tantissime proteine del capside e io lì vedo un puntino bello luminoso. Ci siete? Quel puntino luminoso vuol dire snail acceso. Ok? C'erano le condizioni per accendere. Quella cellula ha deciso di accendere snail. Snail è il mio programma genetico. E snail è uno di questi master regolatori gene, ok? Del programma mesoderma. Tipo come abbiamo visto per il mesenchimal, ok? Solo che lì era P mar 1, questa volta c'è qualcos'altro sopra che regola snail. Guarda un po', abbiamo cambiato sopra invece che sotto. Figa sta cosa. Comunque ci penseremo poi. Adesso abbiamo che dorsal regola snail. Ci siete? E il finale, guardate qua, vedete? Il finale è arrivare a questa riga netta in cui questa cellula lo esprime e questa di fianco non ce l'ha. Lo state vedendo? È strabiliante questa cosa. C'è una riga netta, ok? E dobbiamo arrivare a capire come è stata fatta questa scelta. Allora, questa cellula è andata dritta al punto o ha avuto dei dubbi? Vediamo, chiediamoglielo, eh? Glielo chiediamo, facciamo... In realtà non può parlare, quindi glielo facciamo dire con le immagini. Siete pronti? Allora, all'inizio, guardate un po', all'inizio questo gene viene espresso così, boh, a cazzo direi. C'è un po', un po' a casaccio. Poi chiaramente alla mitosi non c'è più nessuna espressione genica, quando il nucleo si rincompatta, oh no, scusate, quando il nucleo si rincompatta, ricomincia un po'. Lo faccio vedere prima così. Ecco che riparto, no no, troppo presto. E di nuovo, eh? It's not time to make a choice. Aspetta un attimo. Però vedi che il gene comincia, ecco, al tredicesimo si setta già un po' meglio, e poi eccolo, al quattordicesimo ciclo si raffina. Però lo vedete che non è... In realtà è già quasi giusto, eh? Non è che si è spostato di molto. Eh? Non si è spostato di molto. Però, appunto, ci sono anche dei casi in cui si sbaglia proprio clamorosamente. Aspettate che ne ho visto uno prima, dove è finito? Eccolo lì. Ce n'è uno lassù, ma che cacchio devi fare? No, c'è anche qualcuno che ha sbagliato di brutto. No, tu dovrai fare l'epidermide, tu e i tuoi figli, nessuno di voi dovrà andare a finire a fare il mesoderma. È chiaro? Però lo stesso, chi lo sa cosa è successo in quella cellula? C'è stato un attimo. Quindi, è chiaro che è rumoroso questo segnale. Non è preciso. Ci vuole un attimo, bisogna sintonizzarla questa radio. Ci siete? E si vede. E vi direi, boh, quando siete a casa guardatelo. È fighissima sta cosa qua. Perché qui vedi la cellula che dice sì, 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 sempre di più. C'è anche qualcuno che l'aveva acceso e poi dopo invece non lo accende più o lo spegne. Qui lo, ecco, c'è qualcuno che lo spegne. Se guardate lì al bordo, c'è chi lo accende e poi lo spegne. Ok? Quindi c'è un po' di indecisione. C'è un po' di indecisione. In realtà su Snail vi dirò un po' meno, ve ne faccio poi vedere un altro che viene spinto di più. Comunque, il punto è che questo approccio ci permette, d'accordo, di vedere proprio la scelta in termini di master regolatori G, il momento in cui la cellula l'ha acceso. E questa accensione, diciamo così, aspetta a fissarsi al quattordicesimo ciclo. Ed è comunque un po' rumorosa. Questo io lo trovo che sia sempre molto affascinante. D'accordo? Non è netta. Qui c'è ancora qualcuno che pulsa un po' e poi alla fine si fissa. Anche qui ai bordi c'è qualcuno che si fissa e poi basta, però c'è un momento in cui i giochi sono fatti, si chiude la musica come alle teste e bisogna sedersi. E la tua sedia è quella. Allora, ma come si fa? D'accordo? Quindi, come è possibile dal punto di vista proprio della regolazione genica far sì che appunto ci siano delle cellule che accendono il gene e la vicina non lo accende. Allora, e qui ve li faccio vedere. Vi dico anche i nomi perché in effetti ci serviranno. Qui vedete una serie di geni, d'accordo, lungo l'asse dorso-ventrale. Quindi il più ventrale di tutti, laddove dorsale massimo però, è lui, Snail. Snail, Twist e un po' di altri amici loro. Geni del mesoderma sono attivati direttamente da dorsal, quindi dorsal attiva direttamente questi geni. Tutti questi che vedete è tutta roba controllata direttamente da dorsal. Snail, voilà. Poi avete VND ed IND sono due pezzi separati del futuro sistema nervoso centrale. Quindi stiamo già regionalizzando il sistema nervoso centrale. E quest'altro SOG, segniamocelo, che invece fa un po' tutta la parte che diventerà nervosa. Cioè tutto quello che sarà nervoso esprime questo SOG. Allora, Snail, VND, IND sono tutti fattori di trascrizione mentre questi altri due che vedete qui SOG e Decapentaplegic loro no, non sono fattori di trascrizione, attenzione perché arriveremo, quelli sono molecole segnale, sono ligandi extracellulari, quindi molecole che verranno secrete e manderanno un segnale successivo a complicarci ancora la vita. Questa cosa la vediamo poi dopo meglio. Decapentaplegic e SOG sono ligandi extracellulari. IND, VND e Snail sono fattori di trascrizione. Ok. Ecco, ma a parte questo dettaglio qua che ci servirà dopo, ci stiamo chiedendo come fa Dorsal ad attivare in modo differenziale questi geni. Cioè, perché finché a questa concentrazione si accende questo e quest'altro si accende dopo? Allora, a questo ci arriviamo un attimo, in effetti anzi, ve lo faccio vedere così già, no? Possiamo suddividere questi geni, ma se vi dico già questa cosa poi facciamo un ragionamento, possiamo suddividere questi geni in tre grosse categorie, tipo 1 sono i geni che rispondono a tantissimo Dorsal, cioè Dorsal deve essere proprio molto concentrato, se no questi non se ne accorgono neanche. ci sono poi dei geni type 2 che vengono invece, si attivano a concentrazioni più basse di Dorsal, ci siete? E tra l'altro qui possiamo ancora vedere dei gradi, per esempio VND si attiva diciamo così a concentrazioni intermedie di Dorsal, mentre questo IND lui si attiva dove Dorsal è impercettibile, quasi non c'è, ci siete? IND si attiva con pochissimo Dorsal, dove Dorsal sembra quasi non esserci, ci siete? È un grande fan, è super sensibile, ok? È come fossero i One Direction, le ragazzine con i concerti dei One Direction, tu sei a quattro macchine più in là, qualcuno ha la radio e One Direction, sta viaggendo, ok? Molto, molto sensibile, a Dorsal, ci siamo? Mentre Snail non è un grande fan, vi dirò, in One Direction, ci siamo? Cioè sì, forse se glielo porti in camera, tutta la band, ehi, te lo suoniamo un pezzo, se volete, che palle, stavo giocando alla play, cioè, serve una stimolazione più forte, ci siete? Siamo d'accordo su questo, questo è importantissimo, ok? Più sensibili a Dorsal, meno sensibili a Dorsal, perché fa venire un po' di mal di testa, il fatto che Snail è espresso dove Dorsal è più concentrato, perché? Perché è meno sensibile, ce ne vuole di più, per fare, per accenderlo, ci siamo, ok? Allora, secondo me, nelle vostre conoscenze di Biologia Molecolare, c'è già, no, la chiave, il motivo, o comunque una ragione possibile, no? Secondo le vostre, questa cosa dovrebbe essere più o meno plausibile, proviamo a spiegarci proprio dal punto di vista meccanicistico-molecolare, come mai un fattore di trascrizione deve essere molto concentrato per attivare un gene, mentre può attivare un gene, un altro gene, essendo pochissimo concentrato, quindi l'effetto è lo stesso, attivo il gene, però in un caso me ne serve tantissimo, in un altro caso ne serve poco, perché? Dimmi, dimmi pure intanto. Ah no, scusate, sì, decapentaplegi che è represso da dorsal. Giustissimo, scusa, me l'ero dimenticato, grazie, meno male che c'è qualche badante che si occupa di me. Allora, ma secondo voi, proprio dal punto di vista della meccanica, a questo punto c'è il gene, c'è l'enhancer, dove legano i fattori di trascrizione, come si chiamano? Le sequenze specifiche di ogni fattore di trascrizione si chiamano consensus sequences, giusto? Sequenza consenso. Eh, però dorsal ha la sua sequenza consenso. Perché un gene lo attiva quando ce n'è tantissimo e per un altro gene invece ce ne può essere anche poco? Dimmi. Ah, madonna, gli facciamo un applauso. Bravissimo. Quanto è, lui ha detto ideale, così è più letteraria come espressione, in realtà i biologi, così ha ragione, più terra a terra, le chiamano optimal e suboptimal. Ottimale o suboptimale. Però il concetto è quello, giusto? Ma proviamo a ragionarci perché? Perché se la sequenza è optimal, vuol dire che è proprio comodo, è fatta per lui, cioè è fatta su misura, come dire. E quindi lui lì sta comodo, si lega con grande affinità, diciamo le parole giuste. Il fattore di trascrizione, quando la sequenza è optimal, o qui credo una... Eccolo qua, ok? Quando la sequenza... No, in realtà questo non aiuta tanto, sapete? Lasciamo stare. Immaginiamolo e basta. Quando la sequenza è optimal, il mio fattore di trascrizione lega molto bene, con grande affinità, e quindi si stacca poco, si stacca raramente, è più raro che si stacchi. E alla fine, quanti sono queste sequenze con senso in un DNA? Non tante, ok? Quindi nel momento in cui quelle buone, anche se c'è pochissimo fattore di trascrizione, ma ce l'avrai due molecole per attivarmi SNAIL, sono due cromosomi, metti che ce ne ha quattro di sequenza e con senso, però siamo lì, mi bastano quattro molecole e io ho già quel genere lo attivo, ci siete? Poi chiaramente deve competere con altre sequenze optimal, però insomma, una volta che si lega lì, lì rimane. Quindi ne basta pochissimo. La sequenza suboptimal, invece, è una sequenza a cui il fattore di trascrizione si lega, ma poi si stacca, ma poi si lega, e poi si ristacca subito. Quindi per fare in modo che ci sia un minimo di continuità, no, non puoi abbandonare. Aiuto, scusate. Intanto vediamo che... È vero che l'ha già fatto anche l'altra volta questo scherzetto, l'amico Frizz. Spussate. Vabbè, voi intanto immaginate la sequenza optimal e suboptimal. Eccolo qua. Vabbè, non si sa. Non si sa. Ok, ci siete? Quindi a un certo punto che cosa succede? Che se, appunto, se è suboptimal, allora invece questo si sgancia continuamente. Per avere un minimo di continuità di questo fattore di trascrizione su quelle Nanser che acchiappa l'RNA polimerasi e gli dice qui deve venire a trascrivere, ce ne vuole di più. D'accordo? Perché si stacca sempre, però se ce n'è tanto, allora riusciamo ad avere abbastanza spesso questo fattore di trascrizione legato in modo da poter... Ok. Figo però, questa cosa è bellissima, come tutto è... dai moti molecolari vengono fuori questi comportamenti emergenti, quindi tutto sembra molto casuale, ma poi diventa invece iperdeterministico. Ecco che però a questo punto mi sorge un problema su cui c'era un V-Club, ma vorrei che... e invece ci facciamo... Dai, ormai siamo amici, no, riusciamo a dircelo così? Ma sì, dai. Eh, basta con le timidezze, no, non voglio, lo scrivo in privato, paura di sparare una cazzata, invece le cazzate ci aiutano tantissimo, quindi io vi prego di sparare cazzate che non vi ringrazierò mai abbastanza. Allora, la mia domanda qui per voi è questa, ma a questo punto, scusate un attimo, se SOG, IND e VND sono così super fan di Dorsal, ok? Sono così sensibili a Dorsal, quindi ne basta pochissimo per accenderli a manette e mandarli in visibilio, ok? Ma allora come mai? Ah, ah, come mai non sono espressi ventralmente? Ci siete? Se IND è il più sensibile di tutti a Dorsal, ci siete? IND è proprio il suo fan numero uno, va a tutti i suoi concerti, perché non è espresso qua? se è così sensibile, perché non è espresso lì sotto? Bellissimo, facciamo un altro applauso anche a lui. Allora, attenzione, ta 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 ta, forse viene represso, giusto? Cioè Dorsal me lo attiva, ma forse c'è qualcos'altro intorno che lo reprime, un gene regulatory network, giusto? Una maledetta logica di un gene regulatory network, quindi qui ci sono io, quindi non ci devi essere tu. Dove c'è un programma genetico? Non ce n'è un altro e chiaramente questi si reprimano a vicenda. Voilà! E questo è il segreto. Adesso questa cosa la svilupperemo, la vedremo un po' più nel dettaglio, nell'asse anteroposteriore, però il segreto è esattamente quello e vi dirò qui, senza dover andare a cercare in posti strani, per esempio, vi faccio vedere la storia nell'altra tra Sog e Snail, ma vale anche per VND. Sog, Sog non è espresso qui perché Snail lo reprime, cioè proprio direttamente lui, Snail è un repressore. Snail funziona da repressione e reprime l'espressione di Sog. E in effetti vi faccio, eccolo qui, ta-dam! Di questo ci sono un sacco di schemi, in effetti, ma a me è piaciuto questo qua in particolare, che viene da una lezione che c'è su YouTube che vi metto qui se volete vederla, è molto bella, di questo Mike Levin, che è un biologo molecolare, cioè molto di quello che avete studiato a biologia molecolare è uscito dal suo laboratorio, è un signor biologo molecolare, molto famoso come quello. Però il suo modello di studio era la drosofila. Lo sviluppo di drosofila è uno dei modelli in cui un sacco di conoscenze di biologia molecolare, abbiamo tirato fuori un sacco di conoscenze biologo molecolare. Comunque, lui racconta, è anche simpatico, parla molto bene, quindi è piacevole ascoltare, ma in ogni caso, lui che cosa ci fa vedere? Attenzione. Ecco qua, ci porta sulle sequenze regolative di questi geni. Quindi, per esempio, qui vediamo snail. Snail è quello dormiglione. Ah, sì, c'è dorsal, scusate. Ah, sì, è vero. Così. È il più lento a rispondere a dorsal. E già quando l'abbiamo visto ci sembrava veloce. Snail è il più lento a rispondere a dorsal. E in effetti, se andiamo a vedere sul suo promotore, troveremo una sequenza, una sola, suboptimal per dorsal. Quindi è giusto, funziona questa cosa. La sequenza con senso di snail è suboptimal. VND, invece, che si attiva a livelli intermedi, ma non si attiva sotto, lui in effetti ha un sito di affinità molto alto, optimal per dorsal. Quindi dorsal lo attiva bene e ci sta, perché in effetti, guardate SOG, vedete che arriva, arriva fino in alto. E quindi lui, diciamo, questo è proprio, no, scusate, VND, no, stavo parlando di VND, scusate. VND, però si ferma qui, ok? Quindi è optimal, ma arriva fino qui. Poi probabilmente con IND, insomma, ci sarà qualche, con snail, magari anche con qualcun altro, ci sarà un GIN regulatory network che definisce mentre l'amico SOG, guardatelo qua, lui non c'è ovviamente dove c'è snail, perché questo triangolo rosso qui, perché c'è, ha lo snail represso, snail lo reprime, eh? Nelle sequenze regolative SOG viene represso da snail, però ha un dorsal optimal, ovviamente, quindi ce l'ha un sito optimal di dorsal, e in più, c'è anche il bonus però, ha il boost, bonus, dei programmi in pole position, ve lo ricordate Zelda? Zelda era quel fattore materno, pioneer transcription factor, quelli che, è uno di quei fattori di trascrizione che appunto, dà questo aiuto, mette in pole position alcuni programmi genetici. e snail ha questo, ha questo bonus, diciamo così, boost, quindi lui ha optimal per dorsal, ma ha anche un sito di legame per Zelda, ci siete? e quindi questo gli permette di avere appunto questo boost di effetto rispetto a dorsal che è dovunque e portarlo ad un livello più alto di dorsal, d'accordo? Quindi basta pochissimo dorsal, optimal più quest'altro elemento lo porta ancora più su. E qui sotto c'è un accenno di gene regulatory network, però il concetto quindi qual è? Dorsal dà un segnale in effetti che magari è un po' sporco, non è perfetto, ci siete? Però a questo punto sta poi al gene regulatory network vederlo, quando snail, quando se il dorsal è un pochino più forte, allora ecco che vince snail, anzi c'è, fin dove arriva snail, lì avremo repressione. Quindi, quindi è alla fine appunto questo rapporto tra i geni che deciderà un po' l'espressione, ma lo vedremo meglio ancora dopo. In realtà a questo punto vorrei però chiedervi un'altra riflessione. Così vediamo se abbiamo capito, chiudiamo il cerchio. Allora, ma se il mio amico snail è meno sensibile a dorsal, giusto? Dorsal, dove è il nostro dorsal? Ah, eccolo lì. Cioè, se lui ha queste sequenze suboptimal, e abbiamo visto che dorsal in realtà viene su piano piano, nel ciclo, bla bla bla. Allora, però scusatemi, dal punto di vista temporale, quando cominciano il quattordicesimo ciclo, dal punto di vista temporale, chi ci aspettiamo che venga su prima? Non solo, ok? Chi viene su prima? SOG o snail? SOG, per forza, è più sensibile, d'accordo? E quindi, scusate, ma quindi può essere che parte SOG e poi a un certo punto si sveglia snail e lo reprime? Può essere, giusto? E ve lo faccio vedere, ok? In effetti, utilizzando lo stesso trucchetto che vi ho fatto vedere prima, quindi con questo reporter dell'RNA, l'RNA polimerasi si attiva, cioè scusate, l'RNA polimerasi trascrive questi, questo qui, quello uguale con l'airpin, lo stesso questo qua, d'accordo? Però questa volta invece che usare le sequenze regolative di snail, usiamo le sequenze regolative di SOG, che è questo qua, ok? Io prima vi ho fatto vedere il video con le sequenze regolative di snail, questa volta facciamo lo stesso giochetto, quindi vediamo l'RNA che nasce, quindi vediamo che scelta aveva fatto la cellula, però usando SOG, ci siete? Usando questo. Dimmi. questo, sì. Sì, recluta proteine capsidiche del virus marcate dalla GFP. Sì, sì, quelle sono messe di default, quelle sono dappertutto, ok? Quindi questa proteina del capside è dovunque nella cellula, chiaramente, espressa in modo ubiquitario, però si concentra là dove c'è il suo target, e quindi in quel punto vedi una fluorescenza più potente. Ci sei? Quindi lei sarebbe sparsa così, in un modo in cui non vedi neanche, e diventa molto più fluorescente in quel punto, dove si concentra. Ok, abbiamo usato lo stesso trucco, però questa volta per guardare dorsa, per guardare SOG, scusate, e la stiamo guardando dal basso, ok? Quindi questa è la larva vista dal ventrale. Effettivamente, guardate un po', all'inizio del quattordicesimo ciclo, qui non vedete i puntini, scusate, questa è una digitalizzazione. Eh, qui chiaramente, anche questo, per quantificare queste cellule, o comunque queste immagini, il computer aiuta un sacco. Quindi questo è il risultato di un algoritmo di computer vision, che quando vedeva il puntino, ha messo un puntino verde, e se il nucleo non aveva il puntino, ce lo lascia a blu. Ci siete? Il rosso e il giallo ve lo spiego un'altra volta. Allora, comunque, il puntino colorato, è il sistema di computer vision, che ha visto che quel nucleo aveva il puntino, ok? aveva l'RNA, aveva acceso SOG. E se vedete, effettivamente, qui nella parte ventrale, all'inizio del ciclo, all'inizio del quattordicesimo ciclo, in effetti, è proprio il gene SOG, il primo ad attivarsi. Cominciamo a fare qualche trascritto, ma vi dirò, ne avranno fatti 4 o 5, ok? Cioè, poco dopo, in realtà, fai giusto in tempo ad avere un po' di trascritto, in più bisogna anche aspettare che snail venga pure tradotto, ed ecco che, vedete, inizia ad essere trascritto un po', ma eccolo qua. Ta ta ta, snail impression kicks in. Vedete qui che comincia a diradarsi, SOG, e poi piano piano, come se fosse un tosaerba, trrrrrr, quando l'espressione di snail si fissa e si setta, come l'abbiamo vista prima, eccolo qua, che si forma questo confine. Quindi dorsal ha regolato snail, in questo caso è tutto lì, dorsal ha regolato snail, e tanto è bastato per spegnere SOG in quella zona. Et voilà! Quindi questa è zona snail, e snail però parla con SOG, e questo è il punto fondamentale. Entrambi sono attivati da dorsal, però poi i programmi genetici discutono tra di loro, ok? C'è una logica, c'è una logica, e quindi a questo punto dorsal, che cosa fa dorsal? Dorsal decide l'ordine, la sequenza, tu prima, tu secondo, tu terzo, ok? Tu qui, tu di fianco, quindi loro sono alternativi di default, dove ci sono io non ci sei tu, il punto è decidere in che ordine metterli. Questa è la figata, d'accordo ragazzi? Cioè dorsal, quindi questo gradiente di spazzle, quello che fa è mettere in ordine questi programmi genetici, nello spazio. Voilà, e questo più o meno è tutta la storia, poi se volete, qui ci sono, ho lasciato qualche, sì, GIN regolatori network, se provate a provare a vederli. Allora, c'è ancora però un'altra storia, madonna come l'ho fatta lunga, scusate, sono allungato un pelo, ma andiamo veloci adesso. Allora, c'è ancora un'altra storia, però legata a questo asse dorso-ventrale, perché vi ho detto, tra questi geni, scusatemi, tra questi geni, ecco qua, no? Attivati da dorsal, ce n'è anche qualcuno invece, represso da dorsal, perché dorsal, in effetti, arriva circa fino a metà, ok? Quindi spazzal, il grandiente di spazzal è legato alla porzione ventrale, si riduce sempre di più, però diciamo, arriva fino a metà. In tutta la parte dorsale, invece, invece dorsal non ci arriva, ok? Dorsal non va al nucleo, non c'è spazzal, non c'è nessuno. Come la suddividiamo questa zona qua? Ok? Come suddividiamo questa zona? Ve lo faccio vedere, perché anche lì, in realtà vedremo, ci sono dei, ci sono delle, diciamo così, dei destini differenti, ok? Bisogna dare dei destini anche qua su. Allora, qui sopra, adesso ve lo faccio vedere un po' alla veloce, però, almeno per farsi un'idea, ecco che i destini di questa porzione dorsale, in realtà, dipenderanno da un altro polo di segnalazione, perché questo decapentaplegic, lui è una molecola segnale. Quindi, dorsal fa sì che possa concentrarsi dall'altro lato, un altro polo di segnalazione, che chiaramente dipende da dove abbiamo messo dorsal, Quindi questo polo è antitetico alla posizione di dorsal per definizione, perché è dorsal che decide dove mettere l'altro polo. Però nell'altro polo mettiamo comunque un sito di segnalazione, per questo decapentaplegic. E, decapentaplegic, ma ve lo ricordate è decapentaplegic? No? È decapentaplegic che spiralidoso, e non in Mary Poppins. Decapentaplegic c'era nel testicolo di drosofila. Non so se ve lo ricordate. Vabbè, era uno dei segnali che le cellule hub mandavano. Quello che riprimeva... Adesso non mi viene... Vabbè, insomma, lui. No, no, state un altro, quello delle giunzioni aderenti, e invece decapentaplegic riprimeva il master regolatore gene del differenziamento in senso di spermatozo. Vabbè, ma in ogni caso, in questo caso, decapentaplegic, dove lo vediamo? Lo vediamo nella porzione dorsale. Lui è una molecola segnale, quindi possiamo immaginarci, giusto, quando viene quando viene secreto decapentaplegic che cosa succederà? Eh, lui diffonde in questo spazio e creerà un gradiente. In realtà decapentaplegic in questo caso è espresso abbastanza in tutta questa porzione dorsale. Quindi per capire che forma prenderà questo gradiente in realtà dobbiamo inserire un altro elemento. Il nostro amico Sog, che io vi ho detto anche lui è una molecola secreta, ma attenzione chi è? È l'inibitore extracellulare di decapentaplegic. Ok? Quindi è una molecola che lega decapentaplegic nello spazio extracellulare. Pam! Lo placca come se fosse un giocatore di rugby. Quindi Sog lega decapentaplegic a livello extracellulare e gli impedisce di legare i suoi recettori. Ok? Quindi impedisce a decapentaplegic di funzionare. Questa volta la guerra non è più a livello dei nuclei e dei programmi genetici, chi reprime chi, ma è fuori dalla cellula. C'è una sfida extracellulare. E quindi ecco, che cosa possiamo aspettarci che succeda? Perché capiate cosa può aspettarci che succeda? devo darvi solo un altro paio di dati. Allora, innanzitutto decapentaplegic, vabbè, chiaramente lui, ci sono dei programmi genetici che vengono poi attivati dalla sua presenza e lui attiva, decapentaplegic attiva i programmi genetici dell'epidermide. Ok? Tutto quello che sarà epidermide lo fa perché decapentaplegic attiva questo programma. ecco che però decapentaplegic come regola se stesso non solo attiva quei geni ma attiva anche se stesso quei feedback positivi in cui decapentaplegic attiva attraverso un recettore il suo stesso gene e questo serve a cercare di creare dei poli. Abbiamo già vista questa cosa, no? Quindi per settare un polo che sia lì fisso in cui si autostabilizza. un polo autostabilizzato. Quindi decapentaplegic stimola ancora più decapentaplegic e tende a espandersi il più possibile a fare il decapentaplegic word. Ci siete? Quindi decapentaplegic stimola il decapentaplegic però lui magari attiva un po' più in là e poi tende ad allargarsi perché dappertutto tende ad attivare decapentaplegic. Ecco che però quindi l'azione di decapentaplegic va limitata. No ragazzi quello se lo lasci fare si prende tutto l'embrione e a questo serve SOG perché SOG invece da sotto ok anche lui viene rilasciato siccome decapentaplegic diciamo inibisce il differenziamento in senso neuronale è che però invece noi vogliamo che parta perché se no rimaniamo senza cervello saremo degli arrivati troppo stupidi invece noi vogliamo essere anche un po' nervosi. Allora a questo punto SOG che se ci fate caso era espresso proprio lì dove c'è il sistema nervoso nei neuroni scusatemi nelle cellule che erano destinate a diventare nervose lì vedevamo SOG quindi SOG in qualche modo ripara quelle cellule dall'arrivo di questo segnale ectodermizzante. Ecco ma non solo perché effettivamente adesso lo vediamo l'azione ecco non è facile quindi qui potremmo più o meno immaginarlo come andrà a finire questa storia giusto? SOG è espresso lì decapentaplegic è espresso là però tutte e due diffondono però SOG impedisce a decapentaplegic di stimolare se stesso come andrà a finire questa storia? Ci siete? cioè che forma prenderà alla fine il gradiente di decapentaplegic? Alla fine di tutta questa sfida di sta battaglia tra SOG e decapentaplegic dove andrà a finire l'uno e l'altro non lo possiamo sapere dobbiamo sapere quanto insomma ci sono troppi parametri da definire e quindi sapete una cosa ve lo faccio vedere e basta allora però vi faccio prima vedere uno schema perché ci manca ancora un dettagliuccio per capire meglio questa storia allora questo è SOG che vedete in rosso quindi SOG diffonde e blocca decapentaplegic quindi impedisce a decapentaplegic di instaurare questo ciclo autocatalitico dove decapentaplegic vuole ancora più decapentaplegic ok quindi blocchiamo le armate del decapentaplegic che non vogliamo che si diffondano troppo nel mondo e nel pianeta ecco che però quando voi se io voglio far fuori una molecola giusto decapentaplegic io non voglio che decapentaplegic segnali giusto e quindi chiedete al vostro amico mafioso scusami ma voi quando volete fare qualcuno cosa fate e minchia noi ci tagliamo la gola prendiamo una bella proteassi sa e lo metti in un coso di cemento ci puoi passare il treno ci sono un sacco di modi minchia e c'è tutta la creatività tutti i modi che vuoi abbiamo di far fuori e di impedire a quella boccaccia doverte segnalare ok perché invece sequestrarlo ci siete perché se volevamo impedire che segnalasse potevamo semplicemente distruggerlo e invece lo sequestriamo perché tu sequestri qualcuno che sotto sotto immagini forse un giorno di poter liberare ci siamo quindi è chiaro che una volta sequestrato decapentaplegic non può più legare il suo recettore questo però ha un effetto se volete paradossale per cui aumenta la sua velocità di diffusione lui diffonde benissimo a questo punto nessuno se lo caga nessuno lo conosce non lega da nessuna parte e quindi lui diffonde molto bene e quindi in realtà aumentando la sua velocità di diffusione tra i vari giri che fa può andarsi proprio a ritrovare là da dove era partito nella porzione dorsale ok e in questa zona che cosa succede però c'è questo enzima una metalloproteasi che si chiama talloid che è capace di in realtà liberare come se fosse un fulmine come se fosse un fulmine libero è in grado di liberare decapentaplegic e quindi di rilasciarlo lì dove decapentaplegic è massimo scusate BMP è un omore vuol dire decapentaplegic d'accordo io dico decapentaplegic è l'omologo delle BMP di drosofila quindi lo chiamiamo anche BMP ma è il nome d'arte non so decapentaplegic che sono questi nomi questi nomignoli coloriti che ci sono per le proteine in drosofila in realtà noi lo conosciamo come BMP in ogni caso ecco che a questo punto però possiamo immaginare che l'azione di SOG sia quello di fatto di come se fosse rastrellare il nostro decapentaplegic quindi di nuovo di avere la formazione di un dominio no? che si stabilizza di decapentaplegic magari con un po' di gradiente però questo gradiente tenderà piano piano ad asciugarsi e in effetti sentite sapete una cosa ve lo faccio vedere e basta perché anche così è difficile immaginarlo giusto? ma quindi come andrà a finire questa storia che non si capisce e vediamolo ci sono molti ma nessuno di voi potrebbe saperlo neanche sapeste la matematica e le equazioni differenziali ci sono troppi parametri che non conosciamo quindi bisogna guardarlo dal punto di vista sperimentale e quindi andiamo a vedere l'attività della via eccola qui poi c'è un video se volete ve lo potete guardare dimmi si ah perché fa tutto il giro esatto poi in realtà le molecole non è che hanno una direzione cioè si lui è stato rilasciato qui però da ogni punto la molecola può andare dove gli pare e poi di nuovo un problema statistico che fa sì che dove ce ne sono di più tendano a diluirsi e dove ce ne sono di meno tendano ad arrivarci ma la molecola gira a cazzo ok non ha una direzione ci sei quindi questo ridursi della concentrazione è semplicemente un problema probabilistico se tu prendi un sacco di gente e la fai girare a caso allora da dove sono partiti piano piano si diluiranno nello spazio è più probabile che tengono però è una cosa assolutamente random il movimento delle molecole è casuale ci siete quindi qualcuna torna su qualcuna torna giù però non interagendo più con nessuno ok tenderà comunque ce ne saranno molte che tornano su poi si si ce ne sarà qualcuna che fa tutto il giro chi lo sa però vediamo un po' allora qui vi faccio vedere come facciamo a vedere se una via di segnalazione è attiva questo non è facile per esempio appunto un sistema potrebbe essere quello di vedere di vedere l'attivazione della via intracellulare il legame col recettore è una cosa così difficile da vedere mentre invece la via intracellulare è proprio qualcosa che si amplifica no è il suo mestiere quello di amplificarsi io ricevo qualche piccola molecola e poi ho tutta una cascata del segnale che si amplifica e in questo caso che va dritta al nucleo voi non avete fatto le bmp giusto quindi io vorrei ve le farò più avanti ok oggi no non ci siamo moriamo comunque sappiate che nel le bmp segnalano sono delle serinatroninachinasi vabbè lo vedremo lo vedremo però segnalano attraverso delle proteine che si chiamano MAD in drosofila o SMAD nei vertebrati e che comunque vengono fosforilate quindi qui abbiamo un anticorpo stiamo guardando di nuovo la larva da sotto e abbiamo un anticorpo contro questo MAD fosforilato che ci dice che il bmp è stato legato decapenta plegica è stato legato e quindi che la via è stata attivata in effetti guardate un po' all'inizio dello sviluppo non c'è un bel nulla qui ci siete mentre invece se aspettiamo un pochetto qui siamo all'inizio del quattordicesimo ciclo all'inizio del quattordicesimo ciclo ta ta ecco che comincia a vedersi un gradiente di decapenta plegica cioè c'è una zona decapenta plegica non è fortissimo lo vedete non è fortissima ma è abbastanza estesa l'azione di SOG invece è quello di creare questa la striscia bellissima questa pettinatura spettacolare ok quindi l'effetto finale di quella storia che vi ho raccontato è quello ok di nuovo in un in un modo dinamico quindi qui chi lo sa che cosa che cosa succederà però il finale quindi qua sarà l'effetto di questo livello intermedio anche un po' più avanti l'effetto finale però sarà questo una striscia a definire una zona voilà e in realtà vi dirò ma sì va bene così non ci dobbiamo dire molte cose in più allora spero che questo qui c'è un semplicemente una cosa riassuntiva uno schema riassuntivo di come siamo arrivati da questo nucleo che si era andato a posizionare dorsalmente con Gurken che ha segnalato fatto pipe poi gradiente di spazzel dorsal gradiente di dorsal e attivazione di presidenziale dei geni ok quindi distribuzione di questi programmi genetici nello spazio allora questo era quanto sono andato lunghissimo allora stop ciao ciao